I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Altamura nei giorni scorsi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per violazione della normativa sugli stupefacenti e per illegale detenzione di una pistola calibro 9 corto emessa dall'ufficio del GIP del Tribunale di Bari nei confronti di un cittadino albanese 45enne residenti ad Altamura. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per la commissione di reati contro il patrimonio, durante il trascorso mese di agosto era stato individuato come colui che aveva allestito una serra adibita alla coltivazione di marijuana con ben 73 piante giunte a maturazione del peso lordo di oltre 20 kg. Pianti analizzate dal Laboratorio Sostanze Stupefacenti presso il reparto operativo di Bari che sono risultate contenere principio attivo per ben 3.290 dosi, in definitiva un valore sul mercato illegale dello spaccio di circa 15.000 euro. Questa volta la serra era stata discretamente allestita nel piano mansarda di una villetta alla periferia di Altamura, dove i vasi con le piante erano continuamente innaffiati da un artigianale quanto efficace sistema di irrigazione automatica, mentre la luce necessaria era diffusa da ben 35 potenti lampade alogene collocate lungo la soffittatura. Gli appostamenti dei carabinieri della compagnia di Altamura hanno consentito di accertare gravi indizi nei confronti dell'albanese che hanno indotto all'emissione del provvedimento restrittivo da parte dell'autorità giudiziaria di Bari per la commissione dei reati contestatili. L'arrestato è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Bari.